e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video ciao oggi faremo il secondo video di tocca esattamente sulla casa romantica e vi farò il tour però diverso ok iniziamo a far vedere la nostra casa allora qui è dove si può cantare tanto ci sono gli uccelli qui come avete visto già nell'altro video abbiamo messo queste c'è ancora la mamma che sta bevendo nella skin e io questa me la sono fatta anche un po elegante c'è la mamma che ora viene con noi e mette giù questo ding poi qui si guardia queste sono le valigie che forse domani vi faccio un spoiler forse domani non si sa molto bene andiamo facciamo una vacanza solo un giorno al mare qui ci sono tutti uguali perché io e la mamma siamo in due quindi dobbiamo avere tutte le cose uguali eccomi qui e qui c'è una rosa tutta d'oro eh mamma è delicata la vuoi prendere si ok ecco questa è molto delicata bella eh molto bella mettiamo in centro questa è come un arredamento qui ci sono quelle che dobbiamo andare al mare che per fare tutti i trick qui c'è la cucina molto bella qui c'è il freezer qui c'è un sacco di cibo oddio mamma mia forse mamma ti posso fare anche una ricetta vuoi fare merenda certo allora ci sono questi questo questo ce ne sono tanti allora la torta ce l'ho già perché sai voglio fare una macedonia che ne dici una buona idea con questo caldo ci sta da dio non c'è donna sì ok allora credo che devo prendere qua una canzoncina per darci un po di rizzo poi cosa ci sarà l'angulia non so dove ce l'ho eccola io ora devo solo metterlo ecco te mamma una bella macedonia grazie guarda te la puoi giustare mentre facciamo il video oh mamma ti sei mandata anche anche la parte verde eh sì era troppo buona guarda la nostra stanza wow quanti fiori sì e qui c'è anche tutto mamma per noi due bel trucco vuoi cambiarsi per caso che sei scomoda ti metto una roba un po' comoda così e io mi voglio mettere questo molto cambiato che bella canzoncina io mi metto questo con la giacchetta e i cappellini li mettiamo qui ora visto che abbiamo finito la casetta possiamo stare qui e ho preso anche delle vongole buone sai che belli spaghetti vengono fuori mamma per caso ho mangiato anche la parte della vongola no guarda vediamo se funziona ecco allora devo prendere gli spaghetti vediamo se funziona sono curiosa c'è anch'io ok non ha funzionato beh però però ti devo dire te la posso fare con la pancetta è buona c'è un problema l'ho messa tutta in fila sai mamma per fare un po' di ordine oh vabbè ecco ci siamo già vabbè spara come piatto te te la farò al formaggio la vuoi? la pasta al formaggio? si eccolo eccolo invece io faccio un panino del mcdonald's patatine e poi oh è tutto mischiato un po' strano ma noi li usiamo così prendiamo da qui quindi ecco io sto mangiando un mcdonald's come l'ho mangiato stasera vorrei anche un gelato ok te lo vado a prendere c'è un drink e il gelato quale vuoi? gelato eccolo buonissimo oh dio io non li mangio allora anche la carta sarà buonissima la carta vero Zora? ha un gusto aspetta mischiamo ok vediamo che faccia farai ok mamma è tutto ok? insomma e forse ci ho esagerato un pochino oh ma oh adesso è bene prima voglio dedicare una canzone a te molto bella delle amo che sai chi sono le amo adesso io e Elissa ok una nostra canzone tu lo sarai una di noi wings nella mano nella mia e tu lo devi tu lo sarai o se no povero cappiano io e Elissa balliamo oh aspetta do un bacino al sole sai cosa succede? guarda tipo gli occhiali ok questi vedi si bello ti fai anche mettere qualcosa no prova vediamo se li mangi ok ah che bello ma cosa fai Gura? non lo so sono un po' stanca mi metto a dormire anch'io è un'ottima idea ok ora visto che è anche sera abbiamo fatto questo video ora vengo qua a salutarvi ovviamente ci vediamo ora che vi saluto bene ragazzi il video sulla casa romantica finisce qua speriamo che vi sia piaciuto mettete un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao